Antonio Dima, campionati nazionali universitari di nuovo in Molise dopo sei anni, come mai la scelta è ricaduta nuovamente su questa regione? Perché questa regione e questo GUS ha un certificato di garanzia abbastanza valido per noi. Conosciamo bene le istituzioni accademiche, conosciamo bene le istituzioni sportive universitarie, ci sono molto vicine e sappiamo che sicuramente anche quest'anno sarà un successo per i campionati nazionali universitari. Sport e turismo vanno sempre di pari passo, attesi non solo i migliori atleti d'Italia a livello universitario, ma anche i tantissimi appassionati che verranno qui, scopriranno questa regione, quindi possiamo dire che a tutti gli effetti, eventi come questi ne sono la dimostrazione. Beh sì, questo è un evento, verrà tanta gente da tutte le parti d'Italia, gli appassionati di questi posti dove il tempo, la cucina, il paesaggio sicuramente serviranno ad attrarre e torneranno sicuramente a visitare i territori in altri periodi. Ma questo accade dove andiamo noi in tutte le parti d'Italia, come dice lei, lo sport universitario in questo caso, ma lo sport in genere abbinato al discorso turismo, va benissimo. E' stato un anno intenso per il Molise a livello sportivo, che prima ha ospitato le Final Four di Coppa Italia di pallavolo, che è un evento che ha portato qui veramente non solo i migliori pallavolisti, ma tantissime persone e adesso i campionati nazionali universitari. Cosa c'è da aspettarsi nel futuro? Beh, in futuro non lo so, nel senso che dipende dai dirigenti locali, però sicuramente questi sono appuntamenti importanti. Il nostro in particolare, perché qua, oltre alle gare sportive e al discorso delle medaglie dello studente atleta, c'è un piccolo particolare, un valore aggiunto. Questi ragazzi, li vediamo, questi ragazzi saranno la classe dirigente del futuro del paese e dal nostro mondo passa la classe dirigente del futuro del paese. Ecco l'importanza dello sport universitario. Da Presidente, quali gli impegni su tutto il territorio italiano? L'impegni lo dicevo anche prima. Adesso noi siamo riusciti a raggiungere un obiettivo storico, quello del riconoscimento come Cusi della Federazione dello Sport Universitario. Cioè con una delibera storica del Consiglio Nazionale del CONI, dal 1 gennaio del 23, noi siamo una federazione dello sport italiano. Ma questo non è per noi un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché nella nostra idea del futuro dello sport universitario c'è la federazione dello sport scolastico e universitario per racchiudere tutto il mondo della scuola e, ripeto, come già detto in altre occasioni, se riusciamo a chiudere il cerchio anche col mondo del lavoro sarebbe il successo per tutti e soprattutto per questi ragazzi.